Mario Mazzocca è il sindaco di Caramanico, a maggio scade il suo ultimo mandato amministrativo ed è quindi il momento di tracciare un bilancio di questi dieci anni alla guida di questo importante centro termone abruzzese. Sì, sono stati dieci anni intensi, dieci anni in cui siamo stati sempre a braccetto con la nostra comunità, il nostro modo di fare che ha portato a comunicare le cose che facevamo e soprattutto ad apprendere le cose che invece andavano fatte. Non è un segreto che molte delle cose che siamo riusciti a concretizzare ci sono venute nel corso di 430 incontri fatti nell'arco di dieci anni, incontri, assemblee pubbliche, tavole rotonde e quant'altro. In media un incontro pubblico a settimana dove il confronto diventava vero, reale e soprattutto si basava sulle cose concrete. Quello che si dice spesso, bisogna tornare al territorio, non veramente sono dieci anni che applichiamo questa formula, ma per un nostro modo di essere e soprattutto di intendere la pubblica amministrazione. Sinteticamente possiamo dire che nel capo dell'opera pubblica abbiamo appaltato qualcosa come 12 milioni di euro e realizzate, soprattutto abbiamo realizzate delle strutture e delle infrastrutture che si usano oltre che essere state ultimate e completate. Il fatto che si usino sta a significare che comunque l'investimento è sostenibile, quindi si riesce anche a gestire, nonostante la nostra sia una piccola realtà. Ci attendono delle prove importanti come quella del complesso delle piscine termali che noi abbiamo predisposto, abbiamo un progetto che ci è stato approvato e cofinanziato dalla regione Abruzzo. Purtroppo, oramai sei anni fa, spero che se non ce l'ha fatta questa giunta nell'arco di cinque anni e mezzo, ce la faccio alla prossima nel giro di cinque settimane e mezzo massimo, perché è un intervento che non solo attendiamo da tempo, ma che credo venga a completare la nostra offerta turistica e soprattutto può incidere in maniera benefica e formidabile sulla crisi congiunturale che stiamo vivendo, purtroppo a livello locale, regionale, nazionale e mondiale. Secondo lei che cosa dovrebbe fare il suo successore e di più che cosa farà lei? Chi ci seguirà non è, chi ci seguirà le nuove generazioni, abbiamo un gruppo abbastanza molto coeso e soprattutto abbastanza giovane, che quindi garantisce un ricambio sia generazionale che amministrativo, fatto importante ancora di più per i centri di piccola dimensione come i nostri e quindi sul da farsi credo che non è necessario che sottolinei io le situazioni che sono rimaste come dire ancora da potenziare come taluni segmenti dell'offerta turistica, come alcuni aspetti legati alla socializzazione, come la creazione di un soggetto che possa davvero fare sinergia e profondere questa ulteriore forza nella promozione del nostro territorio. Per quanto mi riguarda invece io non è un segreto che ho dato la mia disponibilità al mio partito, al Partito Democratico a poter essere candidato alle prossime regionali, noi diamo la nostra disponibilità, non accampiamo pretese di sorta o che se poi le cose andranno per il verso giusto, bene, altrimenti faremo quello che abbiamo fatto da sempre, ovvero impegnarci per le nostre comunità del nostro territorio che non è solo quello comunale ma è quello più vasto, certo per quanto mi riguarda il mio impegno è stato più che altro riversato nel discorso delle aree interne, non solo nella Val Pescara ma anche nella Vestina, negli anni in cui ho condotto la comunità montana montagna pescaresi e nonostante i tagli totali, non sempre maggiori ma totali da parte della giunta regionale, la ultima liquidazione con un commissariamento che ha di fatto esautorato anche nella fase di spegnimento di questo ente intermedio che per le piccole comunità montane era importante, ha esautorato i territori del tutto dalla propria rappresentanza istituzionale.